ecco acqua eccola qua eccola qua IOT! IOT! no no, ieri l'abbiamo fatta, o no? orcoddio sta mappa di merda Alessandro non vedo l'ora che esce sta mappa mamma mia, questa è veramente la peggiore di tutti aspetta 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 vado a fare le botone che devo mettere quella trappola magica che di solito non vedono di solito? come al minimo te la vedono si perchè adesso l'hai detto tu al buio si vede... non si vede la luce di giorno non lo vedi proprio il laser del kafkan quando c'è giorno sei avvantaggiato il kafkan è avvantaggiato però non vedi un cazzo fuori alle finestre come al solito difendete la stanza dobbiamo proteggere il contenitore di biorischio il drone nemico ha individuato il contenitore di biorischio il drone nemico ha individuato il contenitore di biorischio questo muro qua non possono entrare sto con la destra però mi perde un altro muro di qualcuno il muro è rinforzato il muro è rinforzato il dispositivo ha piazzato il dispositivo ha piazzato è di dimontato che vengano pure perfetto quella trappola invisibile messa ora mi vedete ho piazzato il dispositivo 5 secondi 5 secondi piazzamento fai mette grazie il drone nemico ha individuato il contenitore di biorischio seconda trappola invisibile uomo 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 l'hai viste? no invisibile va via mira c'è il pompa mira apri la botola oh te l'ho pigata ma ancora che non sai le mappe oh ti prego lo vedi il ping? ma sei dal sei dal tonico occhio alla finestra non t'ha affacciato ti prego allora guardami un secondo hai capito quale finestra? hai capito? bravo occhio fa vedere è di qua adesso uov uov mettili alti i vetri di mira però c'è fammi senti boom raga fuori c'è blackboard e fuse non so come cazzo mi ha fatto a prendere blackboard c'era lavagna e fuse black beard black beard va bene black beard che come si chiama? black beard lo potete chiamare barba nera così è molto meglio pure si potete buttarvi un dito in culo che è meglio no fa male amore no non ne farlo shhhh c'è il giacal sulle scale quello a sinistra uov raga non ho ancora sentito nessuno zompano sulle mie mine sito oh ieri sto ritardato non sento quando zompano sulle mie mine oh si guarda black beard che bello che è raga vi spotta i bana non ho fatto in tempo da da dietro tier dietro di te ah a posto perchè? potevi anche non usare potevi anche non usare il c4 si lo so ormai l'avevo tirato fiuza ha rotto la trappola Merda SL citronzo questo è per la trappola ecco ponde di scampare rompi il vetro Nanononono tanto devine lui occhio di qua acchio di qua acchio di qua eccolo guarda la porta Dario non vedo nulla un paio di palle zitto non dire se non sai non dirlo se non sai non dirlo mamma per una kill per una kill e facevo il full team mannaggia tutto wow wow one kill per full team wow no sì 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 è vero no no non puoi tutto teferro il pavimento do fiuzzi scusa ma tipo sotto il tappeto non era legno no tutto teferro meno che non lasciano la botola aperta non puoi fizzare dovete trovare il contenitore di mio rischio mamma mia se non ci fossi io che conosco le mappe come le mie tasche come farò veramente sei troppo brava grazie ben fatto il contenitore di più rischio è stato come che ho meno ore di tutti voi ma prima ma prima ma prima ma prima il fiuzzi cioè come ha fatto a farlo entrare il fiuzzi scusami ok guarda guarda riega senti un po' qua oh guarda 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 ah no fa le botole adesso sta da fare ora raggiungetelo si ho sentito a poco mentre la faceva nuovo caricatore vabbè ma quella se gli dai un colpo va giù all'estana e buttata la martellata a vuoto fai tanto ne ho vent'ordici di martellata guarda questo boh io non vabbè si è lì proprio a destra io non l'ho usato il drone perchè non aspettavo mai trovarlo lì a quelli eh ho visto il drone stardente qui io sono a buttare aviceline si è escala vai termite guando il drone un bel buffo gigante in arrivo a riparo e innescata Sale Bandit Dalla principale Eh bravo da lì C'è la telecamera di Valkyrie Ma non ti ha affacciato così po' C'è uno sotto a sta scala Ha rotto la Glamour C'è la Glamour Thermite Mettila un po' No no alle scale Alle scale Alla scaletta qua dietro Eh tocca entra Bravo Bravo Mando il drone dentro No no mando io Mando solo io Tu coprimi Ehi c'è il jammer Ah ricarica poffa che hai altre 8 colpi da Bella mira Renegade Bello Dietro bancone Entra 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 Il bancone il bancone Ehi c'è Ultimo uomo per la squadra alleata La squadra ad attacco non ha presente Ma tu stai col mouse E non li ammazzi Eh? Stai vomitando? No Quanto hai mangiato? No infatti Io l'ho vista Cucina? Il salino Ah mi sa che è quell'altro L'ho mutato Perché è veramente Ro di noce Sentiamolo No ma razzetto Muto Cosa? Vado a fare le botole io Vada Che non si venga a dire che non con un barrico Mannaggia tutto Oh mamma mia sei troppo bravo Grazie Lo so Non serve che me lo dissi Troppo facile ma bravo Vada a vedere Povimento fortificato Ah mo l'hanno rimesso che quando barri in a botola Si ghiaccia Ti ho preso madò Scusa Ma poi con la pistola ti ho tolto tutta quella vita Madò Ancora 5 secondi Sì insomma Se fa un nemico te shotta Merda Vedo un cazzo No via non vedo un cazzo Da dietro C'ha un drone eh Raga ma dentro ce n'è solo uno Davvero Oh raga Uno dentro per favore E OBS Mietro Tier Che sono Cab Jager E bandit Bandit vai dentro Ho visto alla porta Sto Alessà Arrivano Sottomarino Sessore cardiaco attivato Uso il sensore cardiaco Eh raga Sledge Sledge sotto E ha visto quello Sotto Sotto la bomba Non so come si chiama la stanza Aspetta aspetta Oh ne ho uno sottomarino Le sasso Ando sotto io eh Karim c'è Sledge Nella stanzino qua a destra Non so se n'è andato E con la stanzino lì sì Eccolo Come va la partita Una zi Uno a uno Ricognizione Sì sì Io stavo prendo Di qua Raga Vado a spottato uno E i bana Si è allevata L'ultimo era sopra qua E asce l'ultimo No asce già l'ho fatta Il tempo scade tra dieci secondi Raga qui c'è Era in cima Oh ma che mimetica Orrenda Bloodragon Bellissima Ah No la switch non la prendo più Madonna Due mani sinistre A spara con quell'operatore Ma che hanno fatto lì L'hanno vinta Quindi Thatcher Dai Prendo io Andata avanti Sì Dobbiamo sfondargli Il muro della cucina Trovate il contenitore di biorischio Il bana va sopra Insieme a Twitch Io esce Coso Ah ma non stanno Che stanno questi Perché vi ho il kid Già qui su Ah è passata dalle scale secondarie Sì stanno in cucina Iniziate in cucina Vabbè ma c'è il jammer Non vi fate rompe i droni Cucina Confermato Eccoli Oh Slalom E ritorna Per sfidare la morte La vuole E da Frost Sta scendo scema Eccone uno Mezza Carica da eruzione fonda Drone attivato Ho attivato il drone Cioè secondo me Quello sopra lì Ti ha rotto Hai capito Carima che ha fatto Il buchino Aspetta Ma sta in foco Dove è andata Baldracca Eccola E' lì Ora perché non la vedo Ho attivato il drone Listo No è qui Sì ma ha zeccato il drone Ho Jäger sopra Madonna Puttana Lurica E' negra Termite Ehi Banna Vieni a aprire il muro Che è meglio Ibanna Da che parte passi No è giusto In giro di Peppe No eeeh Quando entriamo Se fa le botole Eeeh E' attenti che Jäger è sotto E vuole salire Eh lo so Ho fatti sto Mi son messo sotto No Finiti Ti fa 50 secondi Per entrato Non vedi nulla C'è il drone C'è il drone Ok c'è Mancano quelli di secondi Vai 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 Dentro Vai dentro Vai dentro Contenitore Difendete la stanza E proteggete il contenitore E' pure da sinistra Eccolo Bravissimo Bravo 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 Giocatore vero Giocatore vero C'è Eh quello che vi ho detto Più di una volta Pure io Vai Oh raga Eeeh Salla sottomarino Però aspetta Bandit Oh bandit Non so chi è bandit Tier L'hai visto quel trucchetto Che ho fatto con i bar Un'altra volta No raga Cabbina di comando Che sa Da scherzare Salla sottomarino No ma siete di nuovo In yak Si Figurati Ormai Siamo diventati Troppo forti Su yacht Beh Avete imparato Proprio Tranne Alessandro Che vabbè E' scarso Prescinde Barricate la stanza Dobbiamo proteggere Il costitore Di orecchio Un demonio Negro Succhi agazzo No Mi fa cagare Muro rinforzato No io S' troppo forte In aereo S' troppo forte Io Le botole Merda Le botole Le botole Regà Vado io Vado io Io c'ho un muro Ancora No io ho un solo muro Vai Vieni su Perché un solo Arrivo Perché uno l'ho già messo giù Arrivo Muoviti che ti fanno Sponchilla La botola Vai Vai Oh senti un po' Basta eh State voi dentro? Metto a difender retro Metto a difender retro Minchia raga Sono così morto Dalle botola Sessore cardiaco In uso Corri ragazzo Laggiù Ricarica Aspetta un attimo Uso il sensore cardiaco Merda Guarda che cazzo Sono andato a mettere Stati le camera Di merda Volei un'emozza Di che Poi Sessore cardiaco Attivato Eh Scema pushato Immortale Sta puttana Zee Vabbè C'è il cento di vita Raga L'ho colpita troppe volte Sì L'ho colpita tipo troppe volte Non è morta Musa Musa Eh Sempre il bug della luce Che dicono sì Io ho sistemato E invece no Sierrano non uscire Raga invece del rook Prossima volta È meglio un doc Rook Alla fine che fa Solo che ti fa Butta per terra Lo doc Che potete pure curà Meglio doc Eh Uno è passato davanti No io ho sparato però Oh vai però Esci e sparagli Se fa così No aspetta aspetta Vai mo che stanno Piazzando le gari Eh però Oh Sta ancora lì sotto le scale Che non t'ha visto Eh ma l'ha sparato Non potrebbe aver visto Aspetta un attimo Oh sì Se gli dai il tempo Di capi sì Non mi puoi sparare da qua Che telecamera di merda Che era quella Guardalo Raga quello fuori È col drone Vai rook 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 È col drone Sparagli No 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 Sparagli rook Leva il drone Viene Raga Twitch arriva Da la porta È andato Il nemico Si sta impossessando Del contenitore Intervenite all'istante È andata una merda Sta difesa Raga Facciamo bene l'attacco Deve lo fare in cucina Un'altra volta Prendo sto fucile qua Per slepe E cosa Thatcher Raga Termite Per favore No Prendi Dovete trovare Il contenitore Divino rischio Io c'ho un tavolo Da cucina Non una scrivania Lo sai Mi fai entrare Il drone? Niente Si deve incastrare Sotto 30 tavoli Poi forse Me lo fa entrare Si va bene Perdi tempo Minuta Aspetta Perdi tempo Bravo E niente L'hanno fatto Il drone Bravo Guarda Da yeager Vai fuori 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 Fuggi 5 secondi In sferimento Contenitore di più rischio individuato Raggiungetelo Anche E' un'altra E' un'altra Perché ogni tanto si mettono a fa spawn fill Lì Infatti sta attento possiamo avanzare drone in partenza eccolo qua vengo vengo montagne vengo ma l'hai visto montagna metto a copri sotto raga io voi usate i droni vedete dove stanno in cucina quelli dentro ce ne sta uno dentro all'angolino poi non ho visto eh quale angolino dronate dentro vedete quanti sono aspetta mando il drone io dai no no sledge fermate ah c'è mute mute è dentro da dietro dov'era bandit dov'era bandit aspetta raga sono contro tormeca zord what da quanto sono la gente muore di te sono morto anch'io eh sto uccidendo quell'altro gante aspetta dove era mute l'ho visto mute era in quest'angolino qua non so se c'è ancora e capo che no c'ho tre di vita smettete di difendere la stanza attività nemica neutralizzate la minaccia c'ho il drone in partenza c'ho il drone fermo mute dov'è mancano 15 secondi e dov'è 10 secondi 5 secondi non ti affacciavo non ti affacciavo coglione si andete in culo montagna ma quell'altro caschetto di touch era quello fluo che fine ha fatto che lo voglio prende invece d'esta mosca ridicola raga io sono ancora a bronzo 3 sono fisso a bronzo 3 oh male mamma signori 13 3 che giocata magnifica su questa mappa di merda non ti affacciavo